benvenuti a tutti in questo nuovo video cari amici di magev e cari lettori di victec oggi unboxing particolare la mirrorless targata sony l'alfa 6.000 siccome in italiano non c'è nessun video ve lo faccio io perché non l'ho trovati proprio prima di acquistare questa fantastica mirrorless abbiamo qui manuale delle istruzioni davvero davvero molto esteso abbiamo il caricatore da parete con vari adattatori sia con presa americana presumo sia la presa americana presa italiana presa europea più che altro e abbiamo poi l'alimentatore dovrebbe essere vediamo un attimino 0,5 ampere quindi molto molto lento abbiamo il laccettino che servirà per mettere a tracolla la la nostra amata mirrorless batteria da 1020 mAh riesce a garantire un'autonomia di circa un'ora pare che abbiamo quasi terminato l'unboxing questo è il cavo micro usb usb per la connessione dati al pc e poi abbiamo qui il l'adattatore per il mirino elettronico ma senza divagare troppo andiamo a vedere la mirrorless come si presenta andiamo a vedere questo gioiellino eccolo qua ta da eccola qua molto molto bella bisogna dirlo da sicuramente una sensazione di materiali premium il corpo macchina non è troppo grande altrimenti non sarebbe non avrebbe senso questa mirrorless mi colpisce moltissimo il form factor di questa sony alfa 6000 devo dire i materiali sono abbastanza buoni non chiedetemi quali sono perché non ne ho la più vaga idea però da touch in fill posso già dirvi che la mia sensazione è davvero davvero buona abbiamo vari tasti funzione che non vi sto qui ad elencare qui le varie modalità che si susseguono devo dire mi piace mi piace ho preso la versione base se così la vogliamo definire perché già così costa davvero molto prezzo di listino 800 euro se non vado errato io l'ho presa in offerta perché proprio in questi giorni anche in questo preciso momento dovrebbe stare su 600 euro in offerta su amazon euro più euro meno andate a vedere link in descrizione che vi lascio con obiettivo 1650 non proprio dei più performanti però ci accontentiamo ecco perché ho preso questa macchina l'ho presa prevalentemente per completare il parco macchine scusate la ripetizione perché la reflex in alcune circostanze non è proprio la soluzione più comoda perché se dobbiamo fare delle riprese particolari riprese in ambienti angusti è facile capire che questa riesce a garantire una comodità sicuramente maggiore inoltre anche se diciamo non è una reflex la qualità delle foto e soprattutto dei video è davvero davvero ottima quindi sicuramente non è stata una scelta a caso poi sicuramente durante questi giorni arriveranno dei video test direttamente dall'alfa 6000 quindi con questo dire che è tutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti lasciate un bel like al video e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale ciao ciao